Cominciare con una grande squadra Il gioco primario in questo momento è quello dei playoff Con un po' di errori, con un po' di fatica E anche con un pizzico di fortuna E con un grandissimo gol di Zullo alla fine Siamo riusciti a portare questo risultato fondamentale Importantissimo che ci permette di continuare a sperare Per questo obiettivo che ci siamo prefissati Ha permesso che l'assenza di Seferi Non è che la scopro io né nessun altro È un'assenza fondamentale Però bisogna ringraziare questi ragazzi Perché nel momento, tra virgolette, di difficoltà Si sono messi tutti quanti a disposizione della squadra Hanno fatto il massimo di quello che potevano fare Noi sono diverse partite che facciamo risultati importanti Ora chiaramente ci stanno delle partite che sono proibitive Come era proibitiva questa? Quella con la Goldbet, l'ultima con Pepperino Insomma, sono tutte partite importanti Se noi non facciamo risultati È chiaro che rimane tutto difficile È tutto ancora da giocare Insomma, con le 3-4 partite Proveremo a dare il massimo di quello che possiamo fare È solo proibito Grazie a tutti.